Colpo di testa ad uscire dove c'è Andreoli che la mette giù, la protegge, il tocco ancora per Castro che deve allargare, lo fa per D'Agostino, sovrappone Santella, D'Agostino è pronto, tiro, cross! La mania che vede D'Agostino con Cucchi che si fa ancora sorprendere, ma il quarantesimo della ripresa, l'ottantacinquesimo, D'Agostino calcia una palla velenosissima che gira davanti al portiere e si insacca sotto la traversa ed è giusto così perché il Piacenza lo merita, non è finita ma lo merita la formazione bianco-rossa perché ha creato molto, molto di più del Cagliero, ma questa è un'altra squadra rispetto a quella iniziale. Grande gol di D'Agostino con la palla calciata con le famose tre dita, ipotizzo da qua che ha preso uno strano effetto e Cucchi si è fatto sorprendere sotto la traversa. 2-1 per noi, adesso Rossini sta parlando con Gerbaudo.